Make sense! Un giorno a Mixopoli, passiamo a Fangangland. Avanti, entrate! Ok, chiudo. Ed è successo davvero così, Javg? Sì, infatti, quello là mi ha dato un panigallavo alla mia giuntella invece di un coccherone. Vado io ad aprire. Ok, Chomley. Speriamo che vengono. Ehi là, chi è? Ciao, amico. Dai, entro. Ok. Ok, ora entro. Raga, Shaf è venuto a trovarci. Ciao, ragazzi. Ciao, Shaf. Toc, toc. Vado io. Ragazzi, come va? Siete voi, dai. Entriamo, su. E così mi ha dato un panino alla volonia invece di darmi il cucchierone. Ragazzi, vi dispiace se i nostri vicini di casa sono venuti a trovarci? No, ho fatto. No, entrate pure. Entrate, entrate. Un paio di persone entrate. Yee, 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 yee. Che va ad aprire? Vado io. Ragazzi, dai, entrate. E ora l'annuale concerto dei Mixes. Pum, 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 pum. Tanti auguri a Gobba. 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 Tanti auguri a te. Tanti auguri a Gobba. Yee, yee, yee. Gobba, ma me lo potevi dire che era il tuo compleanno? come ma non ti ricordi te l'ho detto stanotte ciao ciao domani è la mia festa dobbiamo invitare la gente si ok facciamo i svegli ok bene sapete per questo ho invitato tutti i mixers ho invitato pure Magic Key si e ora stanno ballando il leggendario Mexa Mexa e ora vi stanno salendo tutti addosso per farmi gli auguri aiuto 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 vabbè tutto bene? già tutto bene? abbiamo dovuto chiamare i medics non preoccuparti non preoccuparti lo teniamo noi sotto controllo cosa? no 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 qualche mese dopo e ricordati di lavarti i denti tutti i giorni ok ciao ehi ho un'idea bip 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 pronto Jug? si suggi? organizziamo una festa dato che il gobba è guarito si mi sembra un'ottima idea dopo sorpresa sei guarito tutti abbiamo organizzato una festa nooo 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 nooo